e a proposito di Giada Marina e a proposito di Giada Marina è una strepitosa azienda di costumi da bagno che fa delle cose molto colorate, molto belle, molto particolari allora io so che oggi pomeriggio avete provato le nostre belle miss quindi sono pronte per sfilare come delle vere modelle con costumi Giada Marina ci tengo a dire una cosa la giuria ha già fatto il suo lavoro a proposito di Giada Marina a proposito di Giada Marina Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti.